Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo a supportare l'Italia, sia la nazionale maschile ma anche quella femminile, a questi campionati europei di scacchi. E allora nel video di oggi vedremo la partita tra Natalia Giukova contro la nostra Thea Gweshi. Iniziamo subito. Nel tutto se non l'hai già fatto ti invito a cliccare su iscriviti qui sotto attivando la campanella per non perdervi le notifiche. E allora questa partita comincia con C4, quindi apertura inglese da parte di Natalia Giukova. Natalia Giukova è una grande maestro, molto molto forte, è anche ex moglie di Alexander Grishuk, quindi non un GM a casa. Quindi veramente una fortissima giocatrice a incontrare la nostra Thea Gweshi. C4, E6, G3, D5. E6 è una risposta assolutamente comune a C4, l'idea è di subito supportare il D5. Io per esempio gioco C6 invece, con la stessa idea identica, col fatto che essendo un giocatore di semislava conosco meglio questa sottrapeonale con C6. Però l'idea è appunto la stessa. Dopo D4 infatti si rientra in una gambettura di donna con G3. C5, pedone per, pedone per, cavallo F3, cavallo C6. Fin qui apertura assolutamente corretta. Ovviamente il bianco, avendo fatto G3, dovrà fianchettare, quindi mette l'alfere in G2. Cavallo in F6, continua lo sviluppo, Thea. Arrocco corto. E qui C4. In realtà C4 non è la principale. Infatti generalmente in questa posizione si gioca alfieri in E7. Per esempio la partita potrebbe continuare con cavallo C3, arrocco corto, alfieri G5. In questo modo il bianco ha compiato lo sviluppo. E il nero può anche cambiare questo pedone, creandosi vero un pedone isolato, però ha una buona attività dei pezzi. Vedete questi alfieri come possono giocare molto bene. Se volete approfondire questa partita è la Karpov-Kasparov, quindi due dei migliori giocatori di scacchi della storia di sempre, giocata nel 1984. Torniamo indietro a arrocco C4. Cavalline 5, quindi subito Natalia Giukova decide di mettere il cavallo al centro. Una mossa interessante, assolutamente corretta, giocabile, non ha controindicazioni. In quanto il cavallo è super difeso, c'è il pedone, quindi non ha problemi. Il nero inoltre decide di non mangiare giustamente perché probabilmente questa posizione è sicuramente brutta per il nero. Dove va questo cavallo in D7 non può andare perché perde il pedone, ma ovunque vada l'unica in E4. Perché in altre case comunque il pedone D5 cadrebbe, l'unica in E4, però è chiaro che qui la posizione è veramente brutta. Quindi giustamente Thea non ha mangiato, gioco dal filine 7. Quindi cavallo per C6, B per C6, B3. B3 l'idea è di attaccare subito il pedone più avanzato della sottopelone del nero, quindi il pedone in C4. Pedone per, pedone per. Il bianco si crea questo pedone isolato, anche un po' debole, però allo stesso tempo apre la con A. Quindi in futuro potrebbe creare degli attacchi, dare fastidio un po' alla posizione del nero. Arrocco corto ha giocato Thea, però poteva anche giocare l'alfiere F5, con l'idea di sviluppare subito l'alfiere e magari ritardare l'arrocco un attimo. Per esempio potrebbe continuare con cavallo D2, arrocco, alfiere A3, torre in E8 per difendere l'alfiere in E7, E3. Una mossa abbastanza normale. Sua posizione direi che è abbastanza pari, non ci sono particolari squilibri e qui il nero non ha alcun problema. Quindi quali può essere il piano? Certamente cercare di attaccare il P3 potrebbe essere interessante, quindi per esempio pensando a torre B8 o donna B6 è un'idea. E magari in futuro anche un cavallo in E4 sarebbe bello, è una casa di van posto, difeso da pedone, torre e anche alpiere. Quindi sfruttare queste due idee o anche una spinta in C5. Una spinta in C5 potrebbe essere interessante, però su questo bisogna stare un po' attenti perché il piano in D5 potrebbe rimanere debole. Già l'alfiere lo attacca, la colonna D si aprirebbe, quindi forse la spinta in C5 è un po' troppo. Dunque questi più o meno sono i principali piani. A ruolo corto, alfieri in A3, torre in E8, cavallo in C3, torre in B8. Ecco l'attacco sul po' in B3 come avevamo già previsto precedentemente. Cavallo in A4, cambio degli alfieri. Effettivamente questa torre non è un gran che anche se in futuro potrebbe attaccare il po' in A7. Donne7 per attaccare la torre e attaccare anche il pedone. E quindi unica mossa del bianco, torre in A2 per difendere il pedone. E qui Thea gioca donna B4, forse non era però la migliore. Forse alfieri in G4 risulta preferibile. FG4 è interessante perché attacca il po' in A2, che ha attaccato tre volte e difendere solo due pezzi. Quindi il bianco deve correre i ripari con torre in E1. E ora, una volta che l'alfiero è uscito, il cavallo può ritornare in D7 e quindi senza aver paura di bloccare l'alfiero in C8. Questo cavallo sembrerebbe una buona posizione in D7 perché supporta C5 e evita l'entrata soprattutto del cavallo bianco in C5 che è sicuramente fastidiosa. Come può continuare? Donna D3 per esempio, G6 con idea alfiero F5, H3 alfiero F5, donna C3. E qui, anche in questo caso, direi che la posizione è abbastanza pari. Non vedo particolari problemi da parte del nero, che chiaramente dovrà attaccare questo pedone in B3 e cercare di avere la meglio per crearsi il pedone passato A. Quindi anche a costo probabilmente di scambiarlo per il primo C6, potrebbe essere vantaggioso. Torniamo indietro perché su torre A2, come abbiamo detto, Teagueci ha risposto donna B4, con l'idea di attaccare subito il pedone in B3. Qui Natalia Giukova non ha visto un'ottima mossa. Allora, questa non è facile da vedere, però come allenamento, vi dico come sempre di magari mettere pausa e provare a pensare qual è la migliore mossa qui per il bianco. Vi anticipo che non è semplice, perché non è una combinazione tattica immediata, però non è neanche impossibile. Quindi magari può essere un buon allenamento quello di cercare di trovarla. Immagino abbiate messo pausa, avete avuto il tempo di pensare. Allora, qui Giukova ha giocato cavallo C5, che probabilmente è la mossa più intuitiva, perché posiziona il cavallo in un'ottima casa, come C5. Difende il B3 che è attaccato due volte, certo. Però c'è una mossa migliore. Provo a togliere le frecce. C'è una mossa migliore, infatti, guardate qui. Dovete pensare che... Come ci si arriva? Allora, su dona per B3, se pensate a torre B2, potrebbe essere interessante. Perché la torre attacca il reggine e dietro c'è la torre avversaria. Però voi mi direte, c'è la reggina attaccata e quindi una mossa a casa faccio, per esempio, RH1. Donna per B3. Torre B2, c'è chiaramente donna per donna e il bianco chiaramente perde. Perché torre per donna, torre per B2, cavallo per B2 va un pelone di svantaggio. Per ora, pensate se non ci fosse la reggina qui. Se qui non ci fosse la reggina, quindi non ci sarebbe lo scambio di reggine, e allora il nero perderebbe una torre. Quindi se la reggina fosse in un'altra casella, per esempio, mettiamo in C1, il nero perderebbe la torre. E allora è questo il ragionamento da fare. Quindi, in questa posizione, bisogna spostare questa reggina. Bisogna spostare questa reggina perché poi si minascia torre B2. Quindi, in realtà, il primo in B3 non è attaccato, è solo un finto attacco da parte del nero. Dove mette questa reggina? La casa migliore è A1. Qui pure è un po' strano, però perché A1? Perché su donna per torre B2, la reggina difende il cavallo. Ecco perché allora donna 1 è la migliore. Perché qui, addirittura, la reggina non può neanche mangiare il cavallo, e quindi, chiaramente, perde la torre e perde la partita. Quindi, in questa posizione, che non è stata giurata in partita, la terra giocò fa giurato il cavallo C5. Però in questa posizione, il nero non può mangiare il primo in B3, e si ritrova in una posizione inferiore. Perché in un attimo, alla prossima, il bianco giocherà il cavallo C5, difendendo il pedone in B3 e attaccando con due pezzi il peorino A7. E diventa quasi impossibile difendere tutto. Per esempio, qui ho ipotizzato al fio F5, torre in E7. Fio F5, cavallo in C5 e il peorino A7 è perso, perché è attaccato da due pezzi e difeso da nessuno. Invece, torre in E7 è l'unico modo, ovviamente, per difendere il pedone, però capite bene che è una posizione veramente brutta. Qui, cavallo C5, donna B6, e qui ok, il nero è riuscito dal suo intento di difendere il pedone. Però, guardate qua che posizione. Il bianco ha tutto proiettato all'attacco, il nero invece ha una regina che difende un pedone, una torre in settima che difende un pedone. Non è una bella posizione. Quindi, qui sicuramente il bianco ha mancato la mossa migliore, avrebbe subito ottenuto una posizione ottima. Bene, buon per noi che ti fiamo Italia, quindi ti fiamo per Thea, perché ha giocato cavallo C5. E qui ancora il nero tiene tranquillamente. Infatti, cavallo D7, ha giocato Thea, mi sembra una mossa assolutamente corretta, perché questo cavallo è fastidioso, quindi lo vogliamo eliminare. cavallo in A6, e qui, ok, chiaramente c'è un'analisi approfondita prima di cavallo D7, perché cavallo in A6 non è in realtà un doppio, o meglio, sì, è un doppio, ma si può risolvere. Anche in questo caso, questo è un buon allenamento, quello di analizzare. Qui, donna per B3 salva tutto. Salva tutto perché cavallo per B8, donna per torre, cavallo per C6 e alfiere B7. Così è andata proprio la partita, e quindi uno scambio di torri, e si raggiunge questa posizione. Posizione molto interessante, in cui, quindi, siamo quasi in finale, con materiale assolutamente pari. Il vantaggio del nero potrebbe essere questo pedone in A7, perché effettivamente è passato. che significa passato che nessun pedone adiacente o di fronte lo può fermare. Non ci sono pedoni nella colonna B e neanche nella colonna A. Vediamo se A riesce a sfruttarlo. Donna C1, torre per E2, quindi guadagna un pedone, cavallo in D8, alfiere in A6, donna C6, e qui è qui il primo errore. Qui il primo errore, probabilmente, anche in Zaytonot, probabilmente anche a causa del poco tempo, qui Té ha giocato torre in E7. Torre in E7 non è corretta, perché è vero che attacca la torre in F1, quindi probabilmente questa era l'idea di Téa, quella di difendere il cavallo e allo stesso tempo attaccare la torre. Quindi è un'idea assolutamente interessante, però c'è una risorsa tattica, c'è donna D6. Donna D6 è mossa assolutamente corretta, perché qui c'è poco da fare, qui c'è la torre attaccata, e quindi bisogna difenderla, non funziona alfiere per torre, perché dopo donna pre 7 si minaccia sia scacco matto, anzi qui in F7, donna pre F7, re H8, donna E8, e poi è matto, sia il cavallo, e sia l'alfiere. Tre minacce, direi che sono veramente troppe, quindi qui sarebbe persa subito. Quindi non ponendo mangiare la torre, a questo punto non resta che difendere la torre in E7, perché non si può muovere la torre in E7, perché c'è il cavallo in presa. Quindi qui te ha giocato donna E2. Però torniamo un attimo indietro per vedere cosa avrebbe potuto giocare in questa posizione, al posto di torre in E7, quindi in questa posizione. La mossa migliore probabilmente era cavallo F6. Cavallo F6 infatti evita il matto, il matto del corridoio, difende tutto, toglie il cavallo che era attaccato dalla regina, e su donna C7, che effettivamente attacca il primo F7, che è indifendibile. Quindi capisco che in partita è difficile vedere il cavallo F6, perché subito, vedendo il cavallo F6, dopo donna C7, io personalmente mi sarei fermato, avrei detto, ok no, è sbagliata, perché perdo il pedone. Perdo il pedone, c'è una regina che mi attacca il re, insomma. Poi in realtà qui il nero tiene, infatti torre in E8, per evitare il matto, dopo regina per F7, Rh8, ci sarebbe stato il matto, invece torre in E8 lo evita, e qui per esempio, su cavallo in E6, torre per E6, quindi il nero può serificare la qualità, perché poi la riprende in F1, scacco cavallo G8, alfiere per. E si andrebbe in questo finale, che secondo me, te avrebbe potuto pareggiare, agevolmente, quindi ottenere un ottimo pareggio, contro un grande maestro, una grande maestro. Quindi sarebbe stato un bellissimo risultato. Peccato, peccato perché bastava una singola mossa, fin cui aveva girato veramente benissimo Thea, però dopo torre 7 cade un po' tutto, infatti donna D6, donna E2, bioletto unica, cavallo in C6, attacca torre, e il cavallo è attaccato proprio dalla torre, quindi attacca il pezzo, sovra a carico, e qui il nero deve spostare la torre, lasciando il cavallo in presa. H5, quindi cerca un controgioco, cavallo in B4, attacca l'alfiere, alfiere in C4, però qui chiaramente, con un pezzo in meno a questi livelli, è veramente difficile, riuscire a capovolgere la partita, infatti dopo poche mosse, torre C1, alfiere in D3, cavallo in F4, donna in D2, donna sotto scacco, e qui il nero abbandona. Ovviamente, scacco a re, su re a casette, e qui si mangia la torre, c'è poco da fare, non si può continuare a questi livelli, con una torre in meno, assolutamente. Ok, siamo giunti alla conclusione di questo video, faccio comunque complimenti a Thea, che è palermitana come me, quindi la conosco, da quando lei aveva sei anni, e io nove, se non sbaglio, ci avevamo togliere tre, o forse quattro anni, forse lei, erano veramente piccolissimi, e quindi in bocca al lupo, per le prossime partite, ma sta giocando veramente benissimo, e comunque ha giocato un'ottima partita, contro una grande maestro, quindi veramente, un peccato che alla fine, sia stata una sconfitta. fatemi sapere nei commenti, che ne pensate, lasciate un like, se vi è piaciuto il video, e ci vediamo alla prossima, vi lascio qui dei video, in superimpressione, ciao!